Vorrei parlare di parecchie cose oggi, prima di nostro quiz. Facciamo una discussione su Comacchio senza la prospettiva di Comacchio domani o dopo domani, ma facciamo qualcosa insieme, altrimenti è un peccato per l'occasione. Prima vorrei parlare sulle rotte, su questa navigazione europea tra il VI e il IX secolo. Poi vorrei tornare ai posti, ai luoghi e parlare un po' di produzione e poi navi allo stesso momento, cioè le navi che hanno preso queste varie rotte trans-europee. Allora, c'è tanto di dire in un breve periodo prima della quiz. Comincio qua illustrando in questa mappa molto vecchia di me, ricordando mia conferenza su Butrinto, prima di tornare a Europa Nord. Se voi ricordate bene, a Butrinto qua, ho menzionato il fatto che in 480-90 c'era un cambiamento. C'era un cambiamento di traffico di commercio tra l'Ouest a l'Est Mediterraneo. E dopo 490, la concentrazione della ceramica a Butrinto, concentrando sul mare Adriatico, è stata dell'Est Mediterraneo, soprattutto Medio Oriente e Asia Minore. Cioè c'era un grosso cambiamento fortissimo, un grosso cambiamento di commercio di grande significanza. In un articolo particolare, Paul Reynolds, chi ha studiato la ceramica qua, ha realizzato che c'era, dopo 500, nel Mediterraneo Ovest, un network, un rete di commercio più piccolo. Cioè era ridimensionato in questo secondo, questo Paul Reynolds. E in particolare, Reynolds ha cercato la ceramica di Africa Nord e di Spagna Sud-Est. Lui ha cercato questa roba in Inghilterra nel VI secolo. E questo è il motivo per cominciare con questa mappa. Perché Reynolds ha realizzato che la ceramica nella zona rossa lì, il vecchio Britannica, Cornwall, Irlanda, Galles, del fino quinto, prima sesto secoli, è stato un piccolo gruppetto con origini non dall'est Mediterraneo, come ci abbiamo pensato nel passato, ma dall'ovest, da questa rete qua. Cioè, quando c'era questa trasformazione sotto l'imperatore Anastasio e poi Giustiniano, c'era un motore piccolo, ma fondamentale, mandando un piccolo flotta di navi al sud-ovest di Inghilterra. Qui, il posto più famoso. Non si vede tanto bene in questa luce, ma questo è il Tintagel. Tintagel Head, in Cornwall, Nord. E sopra, nello scavo di 1936, e poi ancora a vari punti fino al 97, è scoperto un serie di case, forse un piccolo palazzo, è la ceramica di Spagna e Africa Nord, secondo Paul Reynolds. E questa roba, qui, scoperta in Inghilterra sud-ovest, è i fossili tipici del periodo, dall'inizio del Sesto, forse la metà del Sesto, secondo Paul Reynolds, che è un tipo molto particolare, è anfora, è sigillata del Mediterraneo, diverso, proprio diverso, differente, dalla roba del mondo anglo-saxone. Cioè, in questo periodo, sto parlando per un momento, prima di dire le mie ipotesi, in questo periodo, il Sesto secolo, un momento, in questo periodo del Bractiets, del Merovingian North Sea, che ho menzionato ieri, qui, Cornwall, Somerset, Devon, Cornwall, qui, soprattutto Tintagel, Settcabri Camp, Dines Powys, in Galles, c'è un'unica cultura materiale assolutamente diverso di quello. E questo qua, secondo, secondo, Paul Reynolds, non è del fino, fine del quinto, ma la prima meta, forse la metà, del Sesto secolo. Cioè, abbiamo un confronto fra un materiale culturale, quello mediterraneo, e un altro, quello del mare del nord. E questo confronto è il confronto mitico fra, mi pare, il mondo, che ho parlato ieri, di Beowulf, del Merovingian North Sea, e sull'altro lato il mondo di Arturo. Perché Tintagel era, secondo tanti, tanti storici, tanti studiosi, uno dei posti del famoso re Arturo. Arthur and the Knights of the Round Table. Cioè, l'archeologia sta illustrando fra un elemento e l'altro nella prima meta e sicuramente in più o meno, secondo Paul Reynolds, 550, un confronto qua fra due culture. e questo ovviamente dal punto di vista storico e dal punto di vista della storia britannica è un momento molto interessante. Sto illustrando questo perché questa rotta qua all'Atlantico finendo a Conwayo, Galles, Irlanda, sicuramente ha finito questo commercio durante il VI secolo e da lì in poi il mondo dell'Ovest era più o meno fuori il mondo del vecino del mare nord e da qui in poi non c'era un contatto diretto tra Inghilterra il mare del nord e il Mediterraneo il vecino Mediterraneo cioè era un momento molto interessante per la creazione di Inghilterra e da questo momento forse per coincidenza ci abbiamo queste due grandi leggende fantastici quello di Arturo e quello un po' più tardi ma è la stessa cosa Beowulf ieri ho parlato con il prossimo o il primo rotta del mare del nord cioè questa diffusione del Brachtiez del stilo due illustrando forse una serie di contatti coinvolgendo posti come i beaching points sulla sabbia cioè prima delle primi insediamenti fissi come Quentavich Doristad e questa Brachtiez questa distribuzione illustra questo fatto se tu studi la storia delle tesori e in particolare seguendo la storia delle oggetti ricchi del periodo c'era in realtà un flusso un link tra Italia e nord alla fine del quinto secolo fino alla fine del sesto secolo tramite il regno c'era poi un altro sistema da Marsiglia il segno e poi il regno seguendo il sistema di tesori e di altri oggetti prestigiosi del periodo poi si vede questo sistema del mare del nord e poi allo stesso momento questo sistema coinvolgendo Austria cioè Francia nord e Inghilterra sud questo in sintesi il quattro sistema fuori quello che ho già ha menzionato includendo il re Arturo questa è un'illustrazione di un mondo molto più complicato di quello prima pubblicato 50 anni fa di Gerald Dunning Dunning in 59 ha illustrato questo sistema molto semplificato illustrando una storia di commercio in 1959 secondo Dunning tra il cuore del regno finendo a Londra a Hamwich qui ora sappiamo il sistema era molto più complicato cioè dopo la diffusione di questa pratica c'era più o meno alla fine del settimo fino al nono secolo cioè da 680 fino 820 830 due sistemi molto diversi uno qua coinvolgendo Nostria Quentevic Rouen Parigi uno coinvolgendo Kent Wessex e forse Londra in parte e l'altro uscendo da Durstad includendo forse in parte Istanglia Ipswich ma soprattutto con direzione al nord a Frisia a Danimarca a Norvegia sud est cioè con le archeologie ora abbiamo una visione di varie rotte una visione di un sistema di commercio trasformando nostra conoscenza del sesto fino al nono secolo allo stesso periodo come Carlo ha menzionato ieri dobbiamo ricordare che c'era pellegrinaggio e qui si vede un anglosassone Willy Barth che in 721 fino 1924 ha partito da Hamwich e è arrivato da Ruon e poi è camminato da Tortona Lucca Roma Gaeta Napoli Siracusa poi a Monavesia poi a Ephesus Miletus Cipro e poi in Medio Oriente fino a Gerusalemme poi lui è tornato in questa maniera è incredibile di pensarci un po' e lui è passato un po' di tempo dopo a Monte Cassino e poi è tornato tutto è descritto bene in McCormick ma vale la pena dopo pensando di commercio così di pensarci un momento su questi individui che hanno fatto un po' di turismo europeo e in questa maniera vale la pena di pensarci un momento qui e questo è in parte il motivo del dibattito e il quiz qui a Hamwich sappiamo in 721 c'era un insediamento con questa fossa quasi riempito quasi 50 ettori Rouen forse lo stesso qui al sud di Francia secondo Patrick Giri un'zona molto impoverato Luca che c'era i primi scavi illustrando chiese piccole a questo momento traversando ovviamente Federico accanto San Ginesio si vede San Ginesio proprio lì e poi passando forse vicino Pava Pava era ancora lì mi pare e poi viaggiando a Roma che era Roma in confronto con questo Hamwich lo scavo al foro romano illustra piccole cose ma non grandi cose come Hamwich Gaeta niente Napoli quasi niente Siracusa Siracusa forse a questo momento ancora in mani bisantini e sappiamo della cripta Balbi c'era un flusso di traffico tra Sicilia e Calabria ha la cripta fino a quel momento più o meno anni 20 anni 30 dell'ottavo secolo e poi passando di Monovasia qua Monovasia chi è stato a Monovasia qua? Nessuno? Monovasia è un posto di paradiso quasi come Birka Monovasia è un piccolo isole mi dispiace forse la prossima volta io porterò un diapositivo di Monovasia un rocca grossa come tintaggio e lì mi pare quattro anni prima i cittadini di Monovasia sono andato con colleghi di Napthion e Milos e hanno fatto un attacco su Costantinopoli e come Pava e Donoratico e non lo so sta miniatura decidendo oggi di fare un attacco su Roma è una cosa impressionante questo piccolo posto Monovasia e poi a Efeso dove sappiamo la grande città era quasi abbandonata Mileto lo stesso e poi finalmente al Medio Oriente dove sappiamo del lavoro di Alan Wormsley in Siria dell'ottavo secolo c'era un ripreso del mondo urbanistico in questo periodo cioè qui c'era un motore di ripreso urbanistico e qua anche ma fra lì e qua c'era soltanto mi pare Comacchio che illustra un momento interessante McCormick ha illustrato questo questa fase tra l'ottavo e il fine nono in questa maniera ma con i suoi 800 documenti nel catalogo del suo libro si vede sicuramente un grosso cambiamento in pellegrinaggio alla fine dell'ottavo durante la prima metà del nono secolo e si vede chiaramente un cambiamento di significanza per Europa Sud con questo pellegrinaggio illustrato così ma allo stesso momento come Carlo ha menzionato ieri c'era anche dalla fine dell'ottavo secolo non soltanto un pellegrinaggio sud ma anche questa missione al nord specialmente a Birka si il famoso missione che è andata lì durante il secondo quarto del nono secolo cioè abbiamo una sequenza di sistemi ora io vorrei avanzare un po' per pensarci un po' più in dettaglio che erano questi posti su quelli roti che erano che è la significanza di questi posti io credo che posti come Hamwich posti come Durstadt Heiterbu Kaupang 4-5 Hectori Birka erano soprattutto centri monopolistici cioè questi erano centri dove c'era un una attività di distribuzione e produzione controllato ma è chiaro che c'era diverse fasi di questi diversi posti come ho spiegato ieri cominciando secondo me con il tipo A i posti periodici dove c'era fiere cioè una fiera una volta un anno come il famoso fiera di Saint Denis fuori il monastero di Saint Denis vicino Parigi fiere come tutti voi sapete che esiste ogni domenica ogni mese ogni giorno di un santo fiere in questo senso che erano proprio su la sabbia the beach dove un barca un nave può arrivare e in questo posto neutrale c'era un scambio di materiale ci sono tantissime illustrazioni documenti parlando di questi tipi di fiere nel dodicesimo tredicesimo secoli nel Baltico specialmente dove erano diverse stagioni per le pesce e c'era scambio c'era un scambio di uno tipo in confronto con un altro passato un giorno un anno un settimana un anno a un posto dove c'erano soltanto edifici fatti in legno per un giorno un settimana massimo cioè questo è una cosa impermanente e io credo Quentevic Dorestadt Hamwich come esempi hanno cominciato così abbiamo quasi nulla di indicare questo ma mi pare questo era i primi punti di imbarcamento i primi punti di scambio ma c'era un cambiamento fortissimo per creare un posto permanente un pianto urbanistica con un architetto dicendo qui saranno vie le strade lì saranno insule lì saranno fosse marcando limitando la zona come Hamwich questo è un concetto molto diverso e ora io credo questo includeva quello cioè questo era un progetto per sostenere questi scambi di stranieri oggetti prestigiosi di stranieri ma allo stesso momento come ho detto l'altro giorno il posto permanente era un'opportunità per controllare produzione e distribuzione e poi il terzo elemento mia gerarchia un centro amministrativo io credo è il città monastica e parlerò di questo alla fine di maggio e poi la gerarchia di mercati io verrò a questo ci sono un lungo dibattito su questi diversi tipi di posti Dalton e Bohannon in un famoso libro su mercati africani hanno studiato peripheral markets in Africa Carol Smith aveva dendritic solar central place interlocking central place cioè lei Smith come ho già spiegato aveva un gerarchia più complicata di peripheral markets in a society dominata dal principio di mercato Carl Polany il famoso polacco americano voleva un port of trade per un hamwich per un dendritic posto e poi un marketplace Kenneth Hearst voleva un gateway per un port of trade per un dendritic central place e poi i storici e questo normale vogliono fare un po' e un medievale town in realtà c'è un schema includendo tutte queste diverse cose ma Fair Emporia e medieval town è una cosa molto vaga in confronto con le definizioni di Carol Smith per illustrare il sistema dendritico il port of trade il gateway questa è una cosa molto diversa quando vediamo San Vincenzo in dettaglio perché vorrei tornare a questo tema è questo molto diverso di quello e questa differenza tramite le rotte cambiando è il punto di Dark Age Economics e io sono sicuro che il mio modello non è così corretto cioè c'è diversi tipi per esempio c'è quello tipo A lì dove c'era un fiera un sistema molto leggero soltanto per scambio poi B quello con un hamwich un Dorestadt controllato ma si vede anche in Danimarca nell'ottavo secolo una situazione dove c'erano tanti tanti diversi fiere cioè una versione di quello prima di questo in cui ogni tribù o ogni gruppo aveva suo piccolo punto sui confini c'è un bel articolo una bella descrizione dei danesi illustrando centinaia di questi piccoli punti nell'ottavo nono diecimo secoli illustrando il fatto che il controllo degli oggetti prestigiosi in questa situazione era molto diverso di quello o di quello e questo è il punto dell'argomento è un nostra archeologia nostra archeologia stiamo archeologi può dimostrare questi punti in confronto con quello quelli in confronto con quello mesurando il fatto e questa è la grande differenza per del mondo dei documenti archeologici allora il mio problema è sempre stato come si fare da qui fino qua come si andava da questo punto B a questo sistema di interlocking central place markets come si va da un Venezio o Comacchio meglio un Comacchio fino un sistema di città nella pionura del Po e io credo c'è un sistema intermedio che è molto difficile di identificare dove c'erano piccoli punti che erano all'inizio fiere e questo è il famoso portus del nord Europa il problema è questa fase è sempre molto difficile di trovare nell'archeologia ma Franz Teos in un nuovo libro di Joachim Henning ha cominciato ad illustrare il fatto come ho menzionato ieri che queste città come Huy come Ghent come Maastricht quelli nel paese bassi hanno cominciato verso 820 830 di essere parte di una produzione regionale cioè hanno cominciato come fiere e subito nell'arco di una generazione è dovenuto piccoli mercati fissi di l'arco 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 di